Più 8% di passaggio sui impianti portamont, manco 5% per la presenza a TOT. Chi si dà di Dezember sul turismo di Fassa, che testimonia che se incelera di Monde e f'artificiare il temprano non era che il dritto da inverno, la stagione è ponte da via bella e buona. Questi sono le due TOT, mingol piacce, la città per i quartieri, a schiappa di più. Chi ha smendramente della presenza, è del 10% più manco, a quel che stagione ha il numero di chi hanno acceso la Fassa e per la festa di Nadella le resta acceso sia. Per Enzo Iori, presidente dell'APT di Fassa e dell'azienda di promozione turistica del Trentino, il tratta dei tempi più senestri le chiede dai Dias di Genè, a buon conto se spera per Fire, di sicuro se ruola Neif ce che migliorerà. Neif che serve mingol per il panorama, ma soprattutto per incontrare i gesti foresti e in conto delle condizioni di Portoas. Questa prima bilanza le positive belle che produce e non c'è per i regioni fuori via, vingol di più a stentare di mo' che i regioni o la che l'autezza o l'indrezza non gli ha dato il metodo di ingegnere i Portoas per tempo. Di sicuro gli operatori di Fassa sono dolci di Dias che vengono a schipare, se questo comincia la stagione, la valle della Trentina, la Passavia, Gardena e Badia.